11 giugno 1995. Ai referendum sulla tv vota no. No alla riduzione dei film in tv. Perché vietare le interruzioni nei film significa impoverire la programmazione di tutte le televisioni private che vivendo di pubblicità saranno costrette a ridurre drasticamente il numero dei film. Quindi meno pubblicità meno film. Per questo se non vuoi perdere la tua televisione vota no.